Posso abbracciare il tuo pupazzetto? Forse dopo, adesso no! Tocca a te, Ridella! Posso per favore abbracciarlo? L'hai chiesto con gentilezza? Sì, sì, sì! Grazie! Nico Panda, ora vieni tu al centro con Bubem! Posso abbracciare il tuo pupazzetto? Forse dopo, adesso no! Per favore, posso abbracciare il tuo pupazzetto? L'hai chiesto con gentilezza? Sì, sì, sì! Su, Aui, abbraccialo! Grazie, Nico!